Durante i suoi primi due anni in carica, l'Europa è diventata il bersaglio preferito di Donald Trump. L'establishment di Washington, amico dell'Europa, non è riuscito a trattenerlo. A volte, le politiche di Trump sembravano volte a spingere un cambio di regime a Berlino e a Londra, piuttosto che a Pyongyang o a Mosca. Ma ora che Trump ha perso la sua presa sul congresso, molti in Europa sperano in un tono più morbido da parte della Casa Bianca, ma alcuni esperti del German Marshall Fund sono scettici. Trump continuerà la sua agenda incentrata sulla sovranità e continuerà a usare un linguaggio nazionalista. Di sicuro, Trump non cambierà la sua opinione sull'accordo sul clima e nemmeno sulle organizzazioni multilaterali o sull'Iran, quindi sarà più o meno lo stesso. In seguito all'ostilità di Trump nei confronti dell'Europa su questioni come la Nato o i Dazi, la Francia ritiene che l'atteggiamento del Presidente americano debba essere un incentivo per sostenere l'unità europea. Shada Islam, direttore del think tank Friends of Europe, si spinge ancora oltre. Non possiamo disimpegnarci dagli Stati Uniti, ma ciò non significa che non dovremmo impegnarci con altri partner ed è per questo che è così importante coinvolgere e raggiungere il Canada, il Giappone, la Cina, che non è il nostro nemico, non è un concorrente strategico per noi. Possiamo lavorare con la Cina se teniamo gli occhi aperti e lo facciamo in modo corretto. I prossimi due anni saranno fondamentali per capire se il partenariato transatlantico è un legame inisolubile o meno.